Lutto nel mondo del teatro a 97 anni si è spento a Mosca, Yuri Lyubimov, fondatore dello storico palcoscenico d'avanguardia a Taganka. Il regista russo era ricoverato in gravi condizioni. Amato anche in Italia, Lyubimov ha lavorato al teatro alla scala tra gli anni 70 e 80. Numerosi messaggi di cordoglio.